Vola la Juniors di Nuova Feta Calcio e Giallo Blu, fanno la voce grossa abbessando la seconda vittoria consecutiva in casa, festeggiando anche l'esordio questa volta sul terreno di gioco dei comunali di Nuova Feltia, davanti a un discreto numero di persone. Sterile la polisportiva stela che dall'altra parte non si rende mai pericolosa permettendo a Nuova Feltia di gestire il risultato, di incrementandola o trafiggendola con un poker. Dopo che la resistenza ospite era durata per 44 minuti, fatale il gol preso all'ultimissimo minuto del primo tempo e ha inizio di ripresa. Per Campidelli squadra completamente da registrare, per Comandini invece da rivedere la propria formazione in versione trasferta dove dopo la vittoria all'esordio sono arrivati un pareggio e due sconfitte, l'ultima delle quali arrivata malamente contro l'Accademia Rimini. In avvio Perlino da calcio piazzato chiama l'attenzione da subito il portiere Germani. Dall'altra parte Tio Rigori viene bloccato senza problemi da Barretta che passerà un pomeriggio tutt'altro che in Operosso. Azione manovrata di Nuova Feta con un po' di testa di Cespi, ribattuto, tocco di Solito, pallone che giunge a lunghi miller. Buono in movimento all'attaccante ma conclusione da dimenticare per lui. Attacco continuo di padone di casa che producono questo assist di Arapi per Antonini che da posizione di filata prova a sorprendere senza fortuna Barretta. Solito a posizioni inverse crea spettacolo, sombrero sull'avversario, stop delizioso, poi prima della conclusione si specchia un po' troppo per sprecare il pallone del possibile vantaggio. Perlino da calcio piazzato tenta l'invenzione ma Germani seppur con affanno, con un pericolo più creato da lui che dall'avversario, intercetta il pallone. E all'ultimo affondo della prima fazione di gioco ecco che Nuova Feta passa. Gori vince un contrasto a centro campo allarga per Arapi che di prima intenzione serve a Antonini. L'esterno allunga il pallone in aria, assolito che gentilmente dando incontro al compagno glielo consegna tra i piedi, ritrovando così il destro al giro vincente per l'1-0. Risultato sbloccato e gol meritato per Antonini che ai nostri microfoni ci descrive la propria prudezza. La palla era dentro l'aria, me la sono spostata con il sinistro, poi dopo un po' alla ceca ho calciato di destro, un po' di fortuna è entrata. Termina qui il primo tempo con le squadre a riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa nel puritempo di finire il Teccaldo che Nuova Feltia la doppia da calcio piazzato e Gregori questa volta a trovare una parabola velenosa che beffa l'incerto Barretta, portando Nuova Feltia sul doppio vantaggio. Il terzo gol arriva qualche minuto dopo per un'altra incertezza del portiere ospite e Laini fresco di convocazione con la prima squadra lascia partire un tiro non certo insidioso su quale Barretta, anziché fare da scudo, risulta tradito dall'imbalzo del pallone. Per lui e i compagni una giornata nera, nerissima e sul sorgere della luna sembra proiettarsi la fine del match ma tra i dire e fare c'è ancora di mezzo il portiere ospite che nel tentativo di evitare la quarta marcatura si fa male in uno scontro aereo e con la porta sguarnita e con le nuova ferite appunto da approfittarne l'arbitro interrompe incredibilmente il gioco. Alla ripresa Miller, uno dei maggiori talenti di questa squadra, cerca gloria personale ma per lui oggi è giornata no. A meritare gli applausi dall'ussida di Sena è Laini, uscito anzitempo per l'impegno con la prima squadra in quella di Morciano. Poi da calcio piazzata, prima lo stesso Miller e poi per Rino dall'altra parte cercano nuovamente il sigillo ma in timbro non arriva per entrambi. Lami in contropiede allora cerca di farsi giustizia da sola, si presenta tu per tu in area di rigore con Germani ma l'arbitro stranamente nonostante l'intervento di Reali e infine del portiere di casa fischia fallo contro di lui. È notte fonda per la stella e di stelle in cielo non se ne vede nemmeno un'anima ma solo una luna che viene sempre più fuori, specie quando si trasforma nel pallone d'oro che giunge a Gori e che puntualmente viene scaricato in fondo a sacco dal fratello di quel Paolo presente nella prima squadra giallo-blu. Giornata di festa per il Nuova Fete ed ora davvero la squadra di Comandini può pensare di arrivare lontano ma nel mezzo del cammino di nostra vita, le città a Vidante, già sabato prossimo i giallo-blu sono attesi a limini contro i bianco-rossi allenati da Ignazio D'Amato. Allora, in questo caso, buonanotte davvero a tutti.